in spagnolo e un po' in italiano, quindi vediamo che è anche molto volgare e piuttosto grassa. Di fronte a lei però la figliastra diventa succube, è succube, come se fosse una figura materna sostitutiva per la figliastra. Quindi rivediamo ancora una volta il tema del doppio, compare la seconda madre, in realtà la donna che la vende, che vende la figlia, la figliastra. Quindi tema del doppio ma ovviamente con una specularità opposta, una è materna, l'altra è invece dominata da interessi economici. Però quanto abbiamo raccontato, quindi questa è la trama complicata, ma non è il fulcro del dramma dei sei personaggi in cerca d'autore, cioè l'opera di Pirandello non vuole incentrarsi sulla storia di questi sei personaggi, sul dramma. Il vero dramma è che la storia di quei personaggi non possa essere trasferita in un'opera drammatica, in una rappresentazione teatrale che sia compiuta, ok? Rimane un dramma aperto, non è un vero dramma o una tragedia o una commedia, ok? È un'opera aperta. Infatti Pirandello dice proprio nella prefazione Avremo solo la commedia del vano tentativo, vano tentativo, ok? Cioè tentativo non portato a termine, perché è impossibile presentare effettivamente il dramma di questi personaggi. Il capocomico all'inizio cerca di resistere, di opporsi alla richiesta che gli fanno questi personaggi che appaiono improvvisamente nel suo palcoscenico, soprattutto il padre e la figlia sono quelli che parlano di più e che appunto insistono di più, perché sono quelli che hanno il dramma per peggiore dentro di sé. A un certo punto il capocomico inizia pian piano a incuriosirsi, sentendo litigare il padre e la figliastra e quindi alla fine il capocomico, sempre più interessato alla storia, cede e consente a rappresentare la storia che i sei personaggi gli raccontano. Ma in realtà quello che lui, il capocomico, cercherà di mettere in scena sarà solo uno specchio, un equivalente una rappresentazione finta, scolorita, inautentica, di quanto i personaggi dicono di aver vissuto. Così il padre e la figliastra iniziano a ricostruire, recitando ovviamente, l'incontro avvenuto nel retrobottega di Madame Apace con una tensione drammatica che insomma è viscerale e raccontano appunto di quello che stavano per consumare fino a che a un certo punto il grido disperato della madre non li ferma. Ma tutto questo viene messo in scena, cioè questo racconto del teatro nel teatro viene messo in scena come se stessero provando a recitarlo è una prova però, a recitarlo appunto per creare una commedia. Quindi a un certo punto in questa finzione, nella finzione, cade il sipario per sbaglio proprio con l'espediente di questa finzione dovrebbe finire così il primo atto della commedia da fare e quindi inizierebbe il secondo atto che si apre nel giardino della casa del padre che è fatto allestire così in modo sommario, un po' grossolano, sul palcoscenico improvvisato però a un certo punto si sospende proprio il ritmo degli avvenimenti che vengono narrati e arriva a una parte più lenta proprio perché si apre una riflessione filosofica quindi l'attenzione viene spostata sulla riflessione perché il padre sostiene che questo in realtà è centrale perché è il significato dell'opera il padre sostiene che i personaggi abbiano una consistenza più reale di quella delle persone in carne ed ossa questo è il fulcro del pensiero di Pirandello personaggi più reali delle persone perché? Perché i personaggi sono vivi dove però? nella fantasia dell'autore, nella mente dell'autore e quindi hanno un'esistenza totalmente indipendente dal loro autore è determinata soltanto, e qui è il punto dal loro stesso carattere sono caratteri, cioè puri caratteri autonomi e le leggi interne al loro stesso carattere creano la loro verità autentica cosa che le persone reali non hanno quindi sono legati a una personalità che non muta non muta col passare del tempo e in base alle condizioni è una fissità che loro hanno una fermezza nel loro essere che gli uomini non potranno mai arrivare a conoscere hanno un'identità unica mentre gli uomini hanno un'identità che continua a cambiare nel tempo è terribile in realtà quel pensiero di Pirandello questo secondo atto tra virgolette che in realtà è improvvisato appunto è la principale ma non è l'unica zona metateatrale cioè il teatro che riflette sul teatro il teatro che riflette su se stesso dell'opera appunto qui sta parlando il padre queste riflessioni sono illustrate da lui ma prende la parola anche la figliastra e dice che i personaggi più volte i sei personaggi più volte sono andati dal loro autore a trovarlo e hanno cercato di farsi dare da lui un'esistenza letteraria un dramma letterario e teatrale lei tra l'altro l'ha tentato più di tutti lei che comunque essendo appunto disposta alla mercificazione di sé alla prostituzione lo vediamo che continua a riportare con malizia questa sua caratteristica fissa proprio perché i personaggi hanno una caratteristica fissa un carattere fisso quindi ha anche cercato di lanciare una sfida sessuale al suo autore a tentarlo per farsi dare appunto una via letteraria letteraria teatrale insomma al suo dramma però non è stato possibile quindi a questo momento in cui lei dice in cui lei appunto fa capire questa sfida sessuale lanciata al suo autore è come se il padre e l'autore si sovrapponessero e quindi abbiamo ancora il tema del doppio che continua a ritornare ok il padre appunto che è attratto da lei sessualmente e anche l'autore viene da lei sfidato sessualmente e anche l'autore ha lo stesso ruolo nei suoi confronti quindi da qui se c'è il tema del doppio riferibile al padre e all'autore il padre è il protagonista dei sei personaggi in cerca d'autore quindi Pirandello stesso che è l'autore diventa a sua volta protagonista del dramma ok è concettuoso passa qui la parola al figlio che continua a sottolineare di essere contrario sia alla moralità del padre che è andato a letto con la figliastra sia a quella della figliastra per l'appunto e anche a quella della madre che rimane in uno stato di dolore e non reagisce quindi il figlio si dimostra proprio il personaggio che non sopporta è ostile proprio alla volontà di essere rappresentati degli altri personaggi cioè gli altri chiedono di essere ascoltati di mettere in scena il loro dramma il figlio è l'unico che si oppone a questa cosa perché schifa quanto appunto gli altri personaggi portano in sé a un certo punto quindi si apre anche una sorta di litigio di contrasto con la madre che è addolorata per il continuo silenzio del figlio e riporta che il giorno della tragedia in cui erano morti gli altri due bambini era entrata in camera del figlio per parlargli ma lui si era rifiutato di ascoltarla se n'era andato e nell'andarsene appunto aveva visto nella vasca del giardino la bambina morta affogata dentro la vasca e di fianco il bambino il giovinetto che che aveva lo sguardo stravolto improvvisamente a un certo punto si mescolano proprio i due piani temporali il passato del racconto con il presente e sulla scena c'è un colpo di pistola perché è come se nel passato il bambino vede la sorellina morta e quindi si spara un colpo e muore anche lui ma questa cosa viene riportata sulla scena del presente quindi si sente sulla scena un colpo di pistola il giovinetto viene portato via morto dalla scena quindi nel presente e una parte degli attori inizia a gridare finzione 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 ok mentre un'altra parte degli attori inizia a gridare realtà realtà ok quindi c'è questo contrasto tra finzione e realtà che disorienta non si capisce più dove sia il vero è finto o è vero quello che è successo quindi il capo comico che rappresenta un po' in questo caso noi spettatori che siamo fuori dalla scena non lo capiamo è disorientato quanto noi fa accendere tutte le luci del teatro e quando gli attori hanno poi sgombrato il palcoscenico sono andati via fa calare il buio definitivo sulla scena spegne tutte le luci una volta per tutte come si conclude il dramma il palco è in ombra ok però ci sono le figure dei personaggi che rimangono sul teatro in fila e nell'ombra vengono proiettate le loro sagome ingigantite quindi da un riflettore e di conseguenza sembrano e diventano enormi e terrorizzano sono terrificanti queste loro sagome in ombra il capo comico le guarda spaventato atterrito proprio e la figliastra inizia a correre sul pubblico tra il pubblico in platea e poi addirittura fuori dalla sala teatrale e fa squillare ovunque una risata che è demoniaca e terribile e per tutta l'opera lei continua a ridere in questo modo demoniaco ma quella finale deve essere proprio la peggiore la più devastante è come se la finzione cadesse del tutto perché arriva la notizia sul palcoscenico che il personaggio bambina è veramente annegato e il giovinetto si è sparato davvero è per questo che sentiamo il rompere appunto questo sparo e quindi la risata della figliastra così demoniaca e amara è in realtà il sigillo del significato ultimo di questa tragica media di questo dramma questa è l'opera teatrale più famosa di Pirandello proprio perché il teatro mai quanto in questo dramma diventa proprio lo strumento il veicolo con cui Pirandello riflette sul rapporto tra finzione e realtà i personaggi rimangono sempre sul palcoscenico anche quando non fanno parte dell'azione principale anche quando non parlano loro sono stati rifiutati dall'autore